Ciao a tutti, sono Giorgio e oggi vi racconterò di come ogni essere vivente è collegato agli altri con i quali condivide un ecosistema, cioè l'ambiente in cui vive. Tutti gli esseri viventi, dagli insetti alle piante agli animali, compresi noi esseri umani, sono infatti collegati da dei fili invisibili che creano la trama stessa della vita. Come vedremo insieme tra poco, interferire con questi nodi può creare delle conseguenze impreviste e a volte anche disastrose. La protagonista della storia che vi racconterò tra poco è una farfalla, che è anche l'insetto che dà il nome alla teoria che ci spiega come una singola azione possa determinare delle conseguenze imprevedibili nel futuro. Questa teoria si chiama effetto farfalla perché se tutte le cose sono collegate tra di loro, anche un piccolo evento può avere grandissime conseguenze. Come per esempio il movimento d'aria causato dallo sbattere d'ali di una farfalla, attraverso una concatenazione di eventi, può determinare, per esempio, si dice, un uragano anche a chilometri di distanza. Gian Umberto Accinelli, un entomologo, cioè un esperto di insetti, nel suo libro I fili invisibili della natura ci racconta proprio la storia della farfalla che salvò l'Australia. Nel 1700 la Gran Bretagna aveva conquistato mezzo mondo e per rappresentare la sua potenza aveva scelto per gli uniformi del suo esercito il colore rosso, il colore del fuoco, della forza, della passione. Questo colore si otteneva dalla cocciniglia Kermes, da un insetto che vive sui cactus e per procurarselo gli inglesi decisero quindi di coltivare questo cactus. Andarono in Brasile, dove cresce spontaneo, e decisero di coltivarlo in Australia. In Australia, soprattutto nella parte più settentrionale, dove il clima è più simile a quello del Brasile, questo cactus si trovò talmente bene che iniziò a diffondersi tantissimo, anche perché produceva dei frutti dolcissimi simili al fico d'India. Gli inglesi però non potevano prevedere le conseguenze che questo loro intervento avrebbe avuto. Infatti il cactus si diffuse a macchia d'olio e ricoprì completamente l'Australia, non senza problemi, perché le mucche che prima pascolavano liberamente non potevano certo mangiarsi i cactus spinosi e nemmeno si potevano più allevare le pecore, perché le spine di questo cactus, trasportate nell'aria, si fissavano, si incastravano nella lana delle pecore e poi chi avrebbe mai voluto indossare un vestito di lana pieno di spine? Gli inglesi dovessero quindi cercare una soluzione per rimediare ai danni fatti intervenendo su uno di questi fili invisibili. Provarono a arruolare eserciti di boscaioli ma che non poterono nulla contro questo cactus super invasivo. Provarono anche a eliminare questo cactus usando un diserbante, un veleno, ma nemmeno questo funzionò. Per risolvere la situazione gli inglesi dovevano ricorrere a un altro filo invisibile che si legava al cactus e alla coccimiglia. Andarono infatti in Brasile, di nuovo, dove questo cactus cresce sì ma in maniera controllata e scoprirono che a tenerlo sotto controllo era una falena che vive in Brasile, si chiama Cactoblastis cactorum, le cui larve si cibono appunto di questo cactus. Gli inglesi la prelevarono dal Brasile, la riportarono in Australia e finalmente riuscirono a risolvere il problema. La Cactoblastis cactorum divenne un'eroina nazionale per aver salvato l'Australia al punto che ancora oggi in Australia possiamo vedere una gigantesca statua dedicata a questa falena. In questo periodo così particolare dobbiamo mantenere le distanze, ma non per questo dobbiamo sentirci soli. Anzi, se dobbiamo tenere le distanze è proprio perché siamo tutti collegati. Come abbiamo appena visto, infatti, ci sono dei fili invisibili che ci collegano l'un l'altro e che ci collegano a ogni altro essere vivente, per quanto diverso e per quanto distante, con cui condividiamo il nostro ecosistema. Alla prossima! Aggiungo due albi illustrati nei quali vediamo dei fili. Eccoli qua! Che cos'è un fiume? In questo Albo illustrato, edito da Topi Pittori, l'autrice ci racconta attraverso le immagini che cos'è un fiume. Io e la nonna siamo sulla riva del fiume. Io raccolgo fiori. Ogni pianta ha un significato. Le margherite sono l'amore, il trifoglio la salute. Le canne la resilienza. La nonna dice Adesso facciamo una ghirlanda. La nonna ha portato una grande tela, alcuni fili e un ago. Sta ricamando una tovaglia. Il fiume risplende nell'ombra e riflette gli alberi, i fiori. Sotto la superficie nasconde grandi profondità, proprio come noi. Fiume, chi sei? Nonna, che cos'è un fiume. Un fiume è un filo. L'altro Albo è Moabi. Moabi, un lussureggiante albero africano, il più grande e anche il più vecchio. In questo libro Moabi si racconta, è lui il narratore. È l'albero, il narratore. Poi Moabi racconta di come cresce e racconta di tutti gli animali e le piante che intorno a lui crescono. A un certo punto compare anche l'uomo. L'uomo ha bisogno di legna. L'uomo ha bisogno degli alberi. Ma Moabi spera ed è sicuro che un giorno l'uomo verrà non per tagliare il mio legno, ma per fare pace con la foresta. Se volete continuare a leggere il libro presentato da Giorgio e tanti altri albi illustrati come questi, Cos'è il fiume e Moabi, potete raggiungerci in biblioteca a Finale Emilia, la biblioteca Giuseppe Pedariali, ma anche in tante altre biblioteche. Tutte le biblioteche del Polo Modenese possiedono libri, questi libri e anche altri libri che vi invitiamo a gustarvi.